È inutile cambiare la cinta di distribuzione quando magari il problema è l'alternatore, prego signorina. Come quando si accenna la spia del motore, no, che è uno che va a pensare che è la colpa che può essere gli iniettori o addirittura il pedale d'acceleratore, prego signorina. Psss! Io capisco che tu hai lavorato per anni in un'officina, ma se tu hai chiamato a lavorare qua è perché adesso tu sei in cameriere. Ma poi guarda come stai conciato. Vatta a mettere sta camicia e sto farfallino, per favore. Qui noi trattiamo d'alimentazione, devi entrare nel sistema. Il sistema d'alimentazione. E dopo ritorni al tavolo e parli soltanto di cucina, gastronomia e mi raccomando non inizia coi motori, eh. E non mi fa pentire di aver t'assunto. Rieccomi. Serve qualcosa? Sì. A parte queste che sono sporche e manco funzionano. Può portarle via. E anche questo puoi riportarlo indietro. Metà è carbonizzato. Allora io vado a dare una sgrassata ai cannelette così riproviamo con l'accensione. Qua il problema è che si è bruciata la testata. Acqua e olio, tutto a posto. Allora io vado a dare una sgrassata ai canali. Allora io vado a dare una sgrassata ai canali. Amor io vado a dare una s Cross aus gramsciata ai canali. Allora io vado a dare una sanzalti suí alimento di써 a r появizzare le coranche al tavolo. Grazie.